Presidente, oggi in Camera di Commercio Don Luigi Ciotti in attesa della giornata nazionale contro le vittime innocenti delle mafie. Qual è il messaggio che Camera di Commercio lancia? Il messaggio è che è necessario confrontarsi, conoscersi, conoscere e avere consapevolezza delle problematiche della illegalità e della criminalità in questo territorio. Quindi oggi è un momento di confronto tra il sistema imprenditoriale, il mondo delle imprese e del lavoro e gli uomini dello Stato. Ovviamente anche con Don Ciotti, ma c'è il prefetto, il procuratore, il questore, il comandante dei carabinieri. È un momento in cui si affrontano le problematiche in un modo ovviamente dialettico e si cerca di instaurare, di rafforzare un percorso di collaborazione perché solo attraverso un gioco di squadra si può fare un passo avanti e si può percorrere un percorso di riscatto di questo territorio. Gianni Rotice, Presidente Confindustria Foggia, che cosa chiedete agli uomini dello Stato oggi con Don Luigi Ciotti? Innanzitutto era importante essere presenti qui e ringrazio anche l'amico Fabio Porrega per l'invito. Noi chiediamo quello che ci è dovuto, nel senso che stiamo facendo tutti assieme una grande battaglia di legalità e soprattutto per il territorio. Stiamo cercando di costruire le condizioni economiche per lo sviluppo del nostro territorio, ma è logico che questo, come l'ho detto più volte, non si può fare da solo ma si fa tutti assieme. E quindi essere qui con le istituzioni a tutti i livelli vuol dire che il messaggio forte è quello di dire che vogliamo continuare in questo percorso, ci crediamo, ma non possiamo perdere altro tempo perché il nostro territorio oggi ha due elementi fondamentali, che è un territorio di grandi appetiti per investimenti e questo ci aiuta. Non ripeto il turismo, l'agroalimentare, la logistica, ma è un territorio che ha bisogno di quei livelli di sicurezza, ma soprattutto delle certezze che per chi venga a investire sul territorio e per chi vive il territorio e lo viva, lo viva con la serenità assoluta. Anche il mondo dell'imprenditoria ha un ruolo molto importante e bisogna stare attenti perché oggi le mafie cercano anche di sporcare un po' questi percorsi, invece bisogna che ci sia sempre più trasparenza, chiarenza, quanti bravi imprenditori. Bisogna anche fare coraggio a loro, perché il lavoro dà la dignità e la speranza alle persone.